Rame, magnesio e l'elettrolita è l'uomo. Si vede che si accende? Sì, sì. Quindi, in una mano hai... Magnesio e rame. Magni bagnate con l'acqua e sale. C'è una parte sola che fa di più. Dimmi se sono a favore eh. Sì, sì, no, perfetto. Non lo sono quasi duro. Serve proprio il fuoco, certo.